La prima volta che qui a Castiglione viene fatta questa manifestazione è stata scelta proprio questa piazza perché già due anni fa circa c'è stato alcune problematiche per quanto riguarda il rischio idrogeologico. È stato appunto preso la piazza di Castiglione per informare anche i cittadini e eventualmente dovrebbe ripetersi, speriamo di no, come comportarsi, come agire, come eventualmente fare le comunicazioni alle autorità competenti. Oggi, come in tutta Italia, sono circa 700 piazze che vengono fatte questa manifestazione tra alluvione, terremoto e maremoto. Noi spieghiamo ai cittadini esattamente come comportarsi in caso alluvione, le precauzioni che devono prendere, quindi eventualmente non bere acqua subito dopo un alluvione, magari non lasciare le macchine nei sotterrani, eventualmente ci sono le problematiche di alluvione salire ai primi piani e cercare di contenere il più possibile il movimento delle acque all'intorno delle abitazioni. Attualmente, come la zona della Valfino, è una zona abbastanza a rischio idrogeologico. Castiglione in particolare, sul piano territoriale e provinciale, è a rischio rosso, quindi è abbastanza elevato. Gli altri paesi vicini al Limitrofi, diciamo, sono tra il giallo e qualche d'uno il verde, quindi è abbastanza meno rischioso.